Cari amici, bentornati a Radio Puggini On Air. Ora vi aggiorneremo sulle ultime notizie. Mettiamo sotto la lente di ingrandimento le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin che ha tenuto un discorso incendiario davanti alle camere riunite del Parlamento russo. Putin ha accusato l'Occidente di alimentare una corsa agli armamenti e ha affermato che le azioni dell'Occidente stanno minacciando di portare a un conflitto nucleare mettendo a rischio l'intera civiltà. Ha avvertito che le armi della Russia possono raggiungere i territori dell'Occidente e ha sottolineato che un intervento della Nato in Ucraina avrebbe conseguenze tragiche. Per cui ormai è chiaro che tra Putin e i matti che abbiamo al governo noi, che c'è al governo l'Europa e i matti che c'è al governo l'America, che finisca tutto da un momento all'altro, che ci ritroviamo senza niente da un momento all'altro, questo è un fatto che potrebbe davvero accadere da un momento all'altro. Con tutti questi matti che ci ritroviamo, compreso Putin, il Presidente russo ha respinto le accuse secondo cui la Russia si sta preparando ad attaccare l'Europa e ha definito insensate le ipotesi riguardanti il posizionamento di armi nucleari nello spazio. Ha dichiarato che le armi nucleari russe sono in massima allerta e ha avvertito che qualsiasi tentativo di intervento in Russia potrebbe scatenare un conflitto su larga scala con l'uso di armi nucleari, con conseguenze molto più gravi di qualsiasi altro conflitto del passato. Putin ha anche sottolineato che la Russia continua a lavorare allo sviluppo di armi avanzate, come il missile da crociera nucleare Burevain-Znik e il missile sottomarino Poseidon. E ha annunciato che i test di queste armi sono prossimi al completamento. Nel frattempo, sul fronte della guerra in Ucraina, Putin ha assicurato che le truppe russe otterranno la vittoria e non si ritireranno mai. Ha affermato che i membri delle forze armate russe non si ritireranno, non falliranno e non tradiranno e ha ringraziato tutto il paese per il sostegno alle operazioni militari in corso. Infine, Putin ha lanciato una forte avvertenza ai paesi della Nato, ricordando loro il destino di coloro che hanno inviato contingenti militari nel territorio russo in passato. Avvertito che le conseguenze per gli eventuali interventisti sarebbero molto più gravi di quanto pensassero. Questa è una panoramica delle dichiarazioni di Vladimir Putin che continuano a tenere il mondo con il fiato sospeso. Restate sintonizzati su Radio Puginioner per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa tragica storia in evoluzione e speriamo che ci sia ancora una prossima puntata in cui riascoltarci qui a Radio Puginioner.